L'importante è perché l'associazione è dei direttori del personale delle aziende campane, quindi chi più di loro ci può dare una mano per fare quello che noi immaginiamo, cioè creare il mercato di lavoro in questa regione, in questo paese dove non c'è, dove solo 4 persone su 100 trovano occupazione grazie all'intermediazione pubblico e privato, la grande scommessa di regione campane, investire risorse per dare delle opportunità ai nostri ragazzi, ma anche per finanziare le imprese che vogliono scommettere sui ragazzi, creando un rapporto. Ecco perché noi le invitiamo e ci affidiamo ora anche all'ITP perché questo sistema diventi la regola generale del nostro paese, ci affidiamo a loro perché noi gli strumenti li stiamo mettendo in campo sempre di più. Abbiamo bisogno anche che ci sia il coinvolgimento del nostro vissuto produttivo, delle nostre imprese che devono dare opportunità ai nostri ragazzi, sostenuti da regione campania, per creare finalmente opportunità e condizioni di crescita e anche per non lasciare solo le persone, che è un grande tema di questo tema.